Chi ha trovato l'unico anello? Cosa cambierà nell'universo dei TCG ora che è stato rivelato? E a quanto ammonterà il suo valore di vendita finale? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. È stato finalmente trovato. L'unico anello, unico in tutti i sensi, ha fatto la sua comparsa nelle fredde lande dell'Ontario, Canada, e ad annunciare la notizia è stata niente meno che PSA, una delle case di gradazione più famose al mondo, attraverso un Twitter sul proprio profilo dove ha scritto Quindi non è una fake news, ma è tutto vero. In data 30 giugno, infatti, la valutazione della carta più ambita del momento è giunta al termine, producendo un valore finale di 9 su 10. Un modesto mint. Rimasto anonimo, il proprietario originale di questo incredibile pezzo da collezione ha deciso di farsi rappresentare da un legale per valutare offerte serie, che sono certo vedranno lievitare il valore dell'unico molto più rispetto a quello che ci si aspetti. Anche perché, mentre sto registrando questo video, molto probabilmente da tutte le parti del mondo stanno accorrendo per mettere sul piatto la loro offerta, come i 2 milioni di euro provenienti dalla Spagna, ad esempio. Quindi non mi sorprenderà se il costo aumenterà nel breve termine. Ne parleremo fra poco. Ma ora che l'anello è stato trovato, cosa accadrà all'universo dei TCG? Nel video odierno risponderemo a questo ed altri aspetti che riguarderanno l'arma dell'oscuro signore molto da vicino, toccando delle dinamiche che potranno fare luce su questo pezzo di storia dei giochi di carte collezionabili che stiamo avendo la fortuna di vivere. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno gli aspetti da tenere in considerazione ora che l'unico anello è stato trovato. Andiamo a dargli un'occhiata. L'unico anello Iniziamo con il parlare subito di cifre. Si stima che al momento, come già accennato, l'offerta maggiore sia di 2 milioni, anche se tra i vari collezionisti ed appassionati di Magic c'è la presenza di Post Malone, già noto per aver offerto la bellezza di 800 mila dollari per un Black Lotus, firmato dall'artista Christopher Rush, purtroppo passato a miglior vita nel febbraio del 2016. Ma non solo il cantante è in lizza per assicurarsi il prestigioso pezzo da collezione. Infatti, dalla piattaforma Twitch, lo streamer XQC ha espresso il suo interesse, dopo aver aperto in live circa 9 mila dollari di Box Collector Edition, senza però riscontrare il successo sperato. Quindi la battaglia dalle lande di Dagorlad si sposterà direttamente sul campo bancario e solo colui che possiederà più soldati di carta, intesi come dollari, riuscendo ad annientare gli eserciti rivali potrà portarsi a casa l'unico anello. Come andrà a finire? Staremo a vedere presto. Una cosa comunque è certa, l'arma di Sauron è, a tutti gli effetti, la carta più costosa al momento per quanto riguarda l'universo di Magic the Gathering, scavalcando il Black Lotus nella classifica di valore che ha visto la Power Nine dominare la vita per un trentennio. E per quanto riguarda invece la classifica generale che comprende tutte le altre carte provenienti dai diversi TCG? Se la vedrà alla pari con il Black Looster Soldier rilasciato al vincitore del primissimo torneo mondiale di Yu-Gi-Oh! del 1999, con un valore stimato di 2 milioni, scavalcando il Lotus che occupava la terza posizione, minacciando la seconda posizione, per poi eventualmente mirare al primato, dove il Pikachu Illustrator di Logan Paul staziona dall'alto dei suoi 5 milioni 275 mila dollari. Ora che è stato trovato però una domanda sorge spontanea. Cosa accadrà ai prezzi delle varie collector ancora in vendute? Caleranno? È probabile. Il valore di quegli articoli ha visto un'impennata dei costi data la possibilità di sbustare l'unico. Ed ora che è stato mostrato nel suo case protettivo da PSA, di sicuro i prezzi caleranno. Non eccessivamente, sia chiaro. Se prima ad esempio una collector poteva essere acquistata per 500 dollari, anche 600 a volte, ora magari potrete trovarla a 300, nei casi più economici, fino ad attestarsi intorno al prezzo originario che orbiterà attorno ai 400 dollari. O anche meno, chi lo sa, ma non ci spererei troppo, dato che, è vero, l'unico è stato trovato, ma i restanti 300, 700 e 900 sono ancora là fuori, pronti per essere portati alla luce. In che senso 300, 700 e 900, Arconte? Sto parlando degli anelli solari, elfi, cinanici ed umani, che nelle loro versioni Rainbow Foil avranno anche qui un numero serializzato, ma a differenza dell'unico presente unicamente nei prodotti inglesi, qui potranno essere trovati anche in tedesco, francese, cinese semplificato e giapponese. Quindi la caccia è ancora aperta, anche se in misura minore, dato che, tenete presente una cosa, se riuscirete a trovare uno dei tre, di sicuro rivendendolo incasserete una cifra discreta. Un altro aspetto interessante da trattare è l'area geografica dove questo pezzo unico è stato trovato. Ontario, sud del Canada. Guarda caso proprio al confine degli Stati Uniti. Signori, avevate dubbi? Già dalle prime battute si sospettava che l'anello venisse scoperto nel continente nordamericano, e ne abbiamo avuto la conferma due giorni fa. C'è da dire che comunque poteva capitare a chiunque, in qualunque parte del mondo, di baltersi nella sbustata della vita. Ma così non è stato, quindi, dando vita a dicerie o meno, oramai la ricerca è giunta al termine. E pace all'animo umano. Certo, ci hanno messo comunque pochissimo a trovarlo, dato che a partire dal 16 giugno, data del pre-release, al 30 dello stesso mese, sono passati solo 14 giorni. E devo confessarlo, mi aspettavo una ricerca un po' più lunga, ma va bene così. Cosa cambierà invece a livello di universo TCG? Nulla. Stiamo assistendo alla storia che viene scolpita sulle pietre granitiche e trentennali del padre di tutti i GCC, ma oltre a ciò, non cambierà niente se non a livello propagandistico. Della serie, Tizio ha offerto millemila milioni per l'anello, Caio ha rilanciato con altrettanti catafioni, e Sempronio ha ipotecato l'intero sistema solare per riuscire ad aggiudicarselo. Quindi, mettiamoci comodi e godiamoci lo spettacolo che la vendita dell'anello ci offrirà, dato che, ufficialmente parlando, siamo già di fronte ad una delle cessioni più esose, anche se non è ancora stato venduto, che il mondo dei trading car game vedrà entrando di diritto negli annali di questo mondo. E voi, a quale cifra credete verrà venduto? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.